Celestino V, l'eremita del Morrone, ha sempre vissuto il suo rapporto con Dio nella ricerca della bellezza attraverso i luoghi incantevoli della Maiella e l'ha segno lasciato alla storia un patrimonio inestimabile di cultura, spiritualità e rispetto per la natura. Sono otto gli eremi ufficialmente riconosciuti, ma ne potrebbero essere di più, distribuiti su un'area che ricade su ben tre province, quella di Pescara, Chieti e L'Aquila. Luoghi di manifesta bellezza che meritano di essere sempre più qualificati. Anche per questo, su input dell'Associazione Rocca Caramanico, presieduta da Licio di Biasi e iniziativa del Parco Nazionale della Maiella, si è formalmente costituito questa mattina il comitato ristretto per il riconoscimento degli eremi celestiniani quale patrimonio mondiale dell'umanità. Tra i componenti l'arcivescovo di Chieti, vasto Monsignor Bruno Forte, e quello di Sulmona Valva, Monsignor Angelo Spina. Gianfranco Giugliante, delegato del Presidente della Regione Gianni Chiodi, i presidenti delle province di Chieti e Pescara, Enrico di Giuseppe Antonio e Guerino Testa e Licio di Biase dell'Associazione Rocca Caramanico. Comitato presieduto dal commissario straordinario del Parco Nazionale della Maiella, Franco Iezzi. Abbiamo ritenuto importante e utile avviare il procedimento con l'UNESCO per riconoscimento dei eremi celestiniani patrimonio e l'umanità, stimolato un po' dal fatto che abbiamo vinto un bando con la Fondazione Telecom che appunto ci impone di rivisitare tutti questi luoghi. Riteniamo questa iniziativa particolarmente importante per la nostra regione perché potrà darci molto in termini di visibilità e anche di accoglienza di nuovi flussi turistici.